Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, tra l'altro primo video del 2023. Oggi parleremo dei migliori film, secondo me, del 2022, dell'anno scorso, fa strano dirlo, e voglio fare una piccola premessa che spero ascoltiate perché è importante. Sia per questo video, quindi i migliori film del 2022, anche a livello soggettivo, che per il video dei peggiori film del 2022 che arriverà più avanti, ho tenuto conto non solo dei film che reputo capolavori, comunque, che mi sono piaciuti tantissimo in quell'anno, nell'anno scorso, nel 2022, ma anche di film che mi hanno stupito, che non mi sarei aspettato di vedere in questo modo, che mi sono piaciuti anche, quindi non sono i migliori capolavori, i film magnifici del 2022. Stessa cosa per i film peggiori, ho inserito dei film che non fanno per forza schifo, che non mi fanno per forza schifo anche a livello soggettivo, ma li ho inseriti perché o hanno deluso tantissimo le mie aspettative o comunque mi hanno lasciato molto interdetto, non ho tantissime cose positive da dire nei riguardi di questo film. Ciò non vuol dire però che sia uno schifo, né a livello oggettivo che a livello soggettivo. Dopo questa doverosa premessa direi di iniziare subito con il video di oggi e proprio come il video film più attesi del 2023 sarà una lista, non sarà una classifica, quindi non si andrà dal film che ho apprezzato meno al film che ho apprezzato di più, ho semplicemente inserito i film che per quanto mi riguarda sono migliori e comunque molto belli nel 2022. Iniziando subitissimo con Ballet Train, un film che mi ha sorpreso tantissimo, intanto c'è un cast enorme, davvero un cast stellare e soprattutto magnifico, con attori che non mi sarei mai aspettato di vedere in questo tipo di ruolo, ma che l'hanno abbracciato nel miglior modo possibile. Ballet Train è sicuramente una delle sorprese migliori del 2022, anche perché non gli davo veramente una lira, anche se comunque il regista, se non sbaglio è David Leitch, uno dei due registi della saga di John Wick è il regista di Deadpool 2, e quindi qualcosa comunque potevo anche aspettarmela, ma non in questo modo. Ballet Train vi consiglio davvero di vederlo se non l'avete ancora visto, non aspettatevi chissà che grande capolavoro è un film molto molto stupido, come i John Wick o anche Deadpool 2, anche se lì siamo in un altro campo, ma non ho sentito la durata, mi sono divertito, ho riso, le scene d'azione sono stupende, anche perché appunto alla regia c'è David Leitch, e se siete in fissa con i cameo, visto l'MCU nell'ultimo periodo, beh, questo film è pieno zeppo di cameo, non solo gli attori che sono già predestinati per essere nel cast, predestinati non è la parola esatta, però avete capito. Passiamo a Knop, attendevo tantissimo questo film perché il regista Jordan Peele, io lo adoro, ho adorato tantissimo Get Out, Scappa Get Out qui in Italia, e anche noi sinceramente mi piace molto come film, non lo reputo peggiore di Get Out, più o meno sulla stessa linea, ed ero curioso di vedere questo Knop non solo per capire il senso di tutto quello che veniva presentato anche nei trailer, il fatto degli alieni, qui c'era un qualcosa di nuovo in confronto agli altri due film, infatti anche guardandolo comunque si può delineare una linea retta che separa noi e Get Out da Knop, a livello di morale finale, ma anche proprio di quello che succede, la durata si sente un po' di più, è un po' più lento in confronto agli altri due film, ma non mi sono mai annoiato, anche perché durante tutta la durata appunto, che è divisa in capitoli, il film è diviso in capitoli con ogni nome dei cavalli, ogni capitolo ha un nome di un cavallo del ranch dei protagonisti, per tutta la durata non aspettavo altro di scoprire l'origine di quell'UFO, e appena si scopre, beh, sono rimasto estasiato, e anche il modo in cui si risolve il film, stessa cosa. Poi comunque c'è tutto un discorso sul cinema e sulla televisione che ho apprezzato tantissimo. Altra sorpresa del 2022 che non mi sarei mai aspettato di inserire in una lista del genere, Una boccata d'aria, film con Aldo Baglio, almeno come... al centro come personaggio protagonista, e questo forse è uno dei film che ho visto di più nel 2022, l'ho visto forse tre o quattro volte, e nemmeno a distanza così larga l'una dall'altra, e sinceramente mi è piaciuto davvero tanto, e non me lo sarei mai aspettato come ho detto, anche perché Scappo a casa non mi era piaciuto più di tanto, anzi quasi per niente, si sentiva la mancanza del trio, e viste alcune uscite recenti la mancanza del trio si sente anche quando c'è, ma con una boccata d'aria non si è sentita anche perché ho preso Aldo come unico attore del film, cosa che poi è perché non è un film di Aldo, Giovanni e Giacomo, e mi sono lasciato trasportare dalla narrazione del film, che comunque scorre tantissimo. Sì, sono avvenimenti che succedono uno dopo l'altro, anche qui come altre commedie italiane si gioca molto sulle incomprensioni, sui problemi dovuti al non capirsi tra personaggi, ma ripeto, il film mi ha divertito, mi ha sorpreso, gli attori sono anche molto bravi, e il senso di amarezza di questa commedia non si sente solo alla fine come molti film, ma in realtà c'è fin dall'inizio, anche se proprio nelle prime parti è un po' nascosta dalla solita commedia degli stereotipi. Anche questo, se non l'avete visto, date un'occhiata, tanto si trova su Netflix. Passiamo ad Elvis. Non sono mai stato un grandissimo fan di Elvis, di Elvis Presley naturalmente, ma da quando è arrivato il primo trailer ufficiale del film, tra l'altro non sapevo minimamente dell'uscita di un film su Elvis nel 2022, prima dell'uscita del trailer, non mi sono andato a informare, da quando è arrivato il trailer, se non sbaglio a marzo, a febbraio-marzo comunque in quel periodo, non vedevo l'ora di vedere questo Elvis, e ripeto, non ero nemmeno un grandissimo fan del cantante. Dopo averlo visto vi posso dire che è lungo, si sente tanto la durata del film, ma mi è piaciuto. C'è un montaggio, per quanto mi riguarda, fantastico, un po', con un ritmo strano, sia nella prima parte e nella seconda parte, con un ritmo diverso, ma per quanto mi riguarda si riesce a seguire benissimo. Avrei preferito si concentrassero un po' di più su alcune parti della sua vita, mentre un po' meno su altre. Però di questo film ne ho già parlato sul canale con una recensione completa, quindi se volete sapere il mio pensiero più nel dettaglio, se non sbaglio anche spoiler, perché ne ho parlato anche con spoiler in quel video, trovate appunto la recensione sul canale. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Per quanto mi riguarda il miglior film del 2022 della Marvel, assieme ad Avatar la Via dell'Acqua, questo era il film che attendevo di più nel 2022, e le mie aspettative sono state ripagate tutte. Anche in questo caso Doctor Strange non è il mio personaggio preferito, Wanda invece un po' di più in confronto a Strange, e la All-Sense la cava assolutamente bene come villain. WandaVision è la mia serie Marvel preferita, tra tutte quelle uscite su Disney+, quindi questo film che è letteralmente WandaVision 2.0, quasi quasi è più protagonista Wanda che Doctor Strange stesso, ripeto, ha pagato qualsiasi aspettativa. Ci sono anche qui dei cameo fatti a caso, quelli degli Illuminati, anche se vedere John Krasinski come Mr. Fantastic ha il suo perché, anche se diventa subito spaghetti. Rivedere il Professor X con la musichetta famosa della serie animata degli X-Men, ok, tutte cose belle, anche se poi crepano tutti come lo schifo, ma al contrario di come dicono in molti, qui Semraimi si sente, si sente tantissimo in tantissime scene, l'horror è la prima volta che si sente così tanto l'horror all'interno dell'MCU, ripeto, la Olsen è perfetta come personaggio villain horror, tutta l'intera sequenza a Camartage, ambientata a Camartage per quanto mi riguarda Eoro, sia per la villain ma anche proprio per le scene in generale, e per quanto mi riguarda posso dire senza alcun problema che questo è il miglior film della fase 4. Fase 4 che sfortunatamente è stata un po' così, speriamo che dal prossimo film, quindi dalla fase 5, si vada migliorando, comunque c'è la mia top 18, questa volta è una top dal peggiore al migliore, di tutti i prodotti della fase 4 dell'MCU, la trovate sul canale. E sempre sul canale naturalmente c'è la recensione completa senza e con spoiler di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Red o Turning Red. La cosa divertente è che quest'anno toccava a Pixar fare, quest'anno nel 2022, toccava a Pixar fare uscire due film, perché penso saprete che Disney Animation e Pixar si alternano, una volta in un anno fanno uscire due film Disney e uno Pixar, l'anno dopo ne fanno uscire due Pixar e uno Disney, quest'anno è toccato appunto a Red, l'ITR per Pixar e Strange World, grandissimo film, per Disney Animation. E stavo dicendo, la cosa divertente è che dei due film Pixar, Red era proprio quello che non mi interessava minimamente, non mi interessava quasi per nulla, mentre l'ITR lo attendevo tantissimo, anche perché è il mio personaggio preferito della saga di Toy Story, e Toy Story in generale come saga la apprezzo tantissimo. Risultato? Che Red o Turning Red si trova in questa lista, mentre l'ITR no. Per entrambi i film comunque c'è la recensione sul canale, senza e con spoiler, quindi andate a vedere quei video se volete saperne di più, almeno per l'ITR, però per Red ne dico qualcosina anche qui. Ecco, questo film è stato sorprendente, sorprendente, soprattutto alla seconda visione, alla prima visione non mi sono concentrato così tanto, essendo uscito su Disney+, mannaggia la miseria, grande grande spreco. Ecco, il mio apprezzamento reale è arrivato con la seconda visione, poi anche con la terza, perché l'ho visto anche una terza volta. Tutti i temi trattati, tra l'altro è uno dei film più adulti, potrebbe non sembrare così, ma è uno dei film più maturi degli ultimi anni di Disney, di Pixar, ma comunque sotto Disney, non solo per ciò che significano molte cose, ma anche per quello che si vede effettivamente. E anche questo quindi vi consiglio di vederlo, se ancora non l'avete recuperato. Non fatevi abbattere dalle aspettative, dalle impressioni, non giudicate il Red dalla copertina, perché infatti la copertina in questo film fa molte cose. Magari una persona come me, della mia età, che ha i miei gusti, comunque potrebbe non essere attirato da un film del genere guardandolo in anteprima, guardando l'anteprima che c'è su Disney+, ma lasciatevi dire che bisogna guardarlo. Io fortunatamente facendo questo lavoro, anche sfortunatamente a volte, devo guardare più o meno tutti i film importanti, tutti i film importanti che escono, e Red è sicuramente stata una delle mie sorprese del 2022. Non ricordo sfortunatamente adesso però se la recensione del film l'ho fatta dopo la prima visione, quindi con un pensiero molto negativo, perché ero stupido in quel momento. In tal caso fate valere molto di più questa mini recensione che state vedendo oggi, perché è quella reale. The Batman, tutorial di come fare un film di tre ore e farne sentire la metà. Per quanto mi riguarda questo lo posso definire anche il miglior film del 2022, mi sbilancio, The Batman miglior film del 2022. Mi sembra davvero difficile che non l'abbiate ancora visto, quindi non dico andate a guardarlo, andate a recuperarlo, ma ho adorato praticamente tutto di questo The Batman. Partendo da Robert Pattinson, che ho rivalutato tantissimo, non solo da Twilight, perché per quanto riguarda Twilight l'avevo già rivalutato in altri film, ma non gli avrei dato neanche due lire per quanto riguarda Batman. Invece l'ho apprezzato tantissimo, sia come Batman che come Bruce Wayne. Poi sinceramente gli attori sono tutti ai loro posti. Catwoman è perfetta, il pinguino è perfetto, l'enigmista è perfetto, Alfred è perfetto, anche Gordon è perfetto, tutti perfetti. Non mi sarei mai aspettato il colpo di scena finale all'Arkham Asylum, non dico altro, e proprio come ho esordito in questa mini recensione, come fare tre ore e farne sentire un'ora e mezza, nemmeno, perché scorre che è una meraviglia. L'ho visto due volte, due volte è la stessa cosa. Vorrei rivederlo una terza, tanto ho la Steelbook, non posso vederlo in 4K, mannaggia perché mi manca il lettore, però comunque posso rivederlo tutte le volte che voglio. E sinceramente si merita ogni singola visione. Passiamo a Una famiglia vincente, film che in qualche modo passerà anche alla storia, anche se non si ricorderanno per nulla il film, ma tutti ancora oggi ci ricordiamo del famoso schiaffo di Will Smith a Chris Rock sul palco degli Oscar, anche se fortunatamente col tempo, ed era ovvio, ha perso di viralità come evento. Però nella corsa agli Oscar, tra i film per cui ti favo di più, c'era appunto King Richard, Una famiglia vincente. Mi fa piacere che abbia vinto Will Smith il premio come miglior attore, perché se l'è cavata abbastanza bene in questo film, tralasciando tutto quello che è successo prima, le cose che sono successe durante il suo discorso, che hanno inorridito persino le persone reali che venivano rappresentate nel film King Richard, appunto la famiglia Williams, però il film in sé è davvero qualcosa di interessante. Non ricordo adesso se ha vinto qualche altro premio agli Oscar, quantomeno, ma alla fine i premi contano fino a un certo punto. Ghielmo del Toro, Spinocchio. Ecco un film che sicuramente verrà candidato agli Oscar di quest'anno, e se li merita tutti, si merita tutte le candidature, e possibilmente anche le vincite, perché quest'anno sono usciti due film di Pinocchio, anticipo già una posizione della lista dei peggiori film, nell'altra lista ci sta il Pinocchio di Zemeckis, qui invece è quello di Del Toro, perché questo, per quanto mi riguarda, non è un film, ma è magia pura. Non solo per la tecnica, lo stop motion perfetto, a un certo punto persino ho dimenticato di stare guardando un film in stop motion, ma proprio per la nuova reinterpretazione della storia di Pinocchio, sapete che io non ho letto il romanzo, lo leggerò prima o poi sicuramente, ma comunque bene o male conosco molte parti, anche quelle più sconosciute, a chi solitamente non legge, non ha letto il romanzo. E tutto quello che si vede in questo film dall'inizio alla fine, la fine è perfetta, rasenta quasi la perfezione, problemi ci sono, naturalmente la perfezione totale non esiste, però ragazzi, se ve lo dice uno che Gielmo Del Toro non lo apprezza nemmeno tantissimo, guardate Pinocchio. Anche di questo film è recensione completa sul canale. Passiamo a Glass Onion, a Knives Out Mystery, il film uscito su Netflix, prima era uscito in realtà nelle sale, un mese prima di uscire sulla piattaforma. Io comunque l'ho recuperato su Netflix, lo attendevo tantissimo perché il primo Knives Out, per quanto mi riguarda, è magnifico. Io in generale apprezzo i film mystery, soprattutto quelli che non si prendono sul serio al 100%, e che parodizzano anche sotto alcuni punti di vista lo stesso genere, come appunto i due Knives Out. Questo secondo l'ho trovato minore in confronto al primo, anche perché si poteva arrivare più facilmente alla risposta, alla soluzione, prima anche di Benoit Blanc, ma questo probabilmente potrebbe anche essere un punto a favore del film, perché arrivarci prima di Benoit Blanc potrebbe significare qualcosa nella trama, non dico altro. Ho sentito dire a molti che i personaggi sono molto spenti, molto simili tra loro, ma per quanto mi riguarda non è così. Sono sì molto stereotipati, ma appunto proprio per questo non sono simili tra loro, perché ognuno ha uno stereotipo diverso, è una storia diversa, quindi non capisco questa critica che ho sentito dire a molte persone. Sì, il finale è un po' così molto diverso dal primo film, in realtà tutto è diverso dal primo film, anche un po' il tono, molto più eccentrico, anche lo stesso Benoit Blanc, è molto più eccentrico in confronto a Knives Out, cena con delitto. I due film sono molto diversi, però sinceramente ho apprezzato molto anche questo Glass Onion, proprio per quello che fa, perché letteralmente in alcune cose prende in giro lo stesso spettatore. Chip e Chop agenti speciali. Film a cui non avrei dato davvero nemmeno una lira, almeno prima del trailer, andiamoci così, prima del trailer non gli avrei dato nemmeno una lira, perché era stato presentato come live action di Chip e Chop, e io ho pensato, cosa fai un live action, un remake live action di Chip e Chop, che sono due personaggi, sì, un po' messi lì, ma sono Chip e Chop. Appena è arrivato il trailer, o comunque il film, non ricordo adesso se nel trailer si vedeva quello che mi aveva fatto apprezzare, sì, penso di sì, sì sì sì, ok, adesso mi è venuto il flash di anche i Peter Pan, grassotto e invecchiato nel trailer, ok, cioè, ecco, fin dal trailer questi occhi sono diventati a curicino per questo film. Una presa in giro alla stessa Disney, che sì, non arriva ai punti più alti, della parodia, o comunque della critica, dell'autocritica, ma comunque qualcosa la fa, ma non solo alla Disney, alla Warner, o al cinema in generale, al sistema del cinema, al sistema delle star famosi, eccetera, qualsiasi cosa. E vi giuro, non mi sarei aspettato una cosa del genere da un film su Chip e Chop, anche perché in realtà, sì, si chiama Chip e Chop agenti speciali, i protagonisti sono loro, ma è un film parodia, slash critica, sul film è la televisione. E sinceramente per questo l'ho adorato. Passiamo a Black Panther, Wakanda Forever, che tra l'altro arriva su Disney Plus l'1 febbraio, non vedo l'ora di rivederlo, perché l'ho visto una volta, e mi è piaciuto comunque. Non quanto Doctor Strange di Multiverse of Madness, qui la durata si sente un po' di più, anzi, tanto di più, è 2 ore e 40 di film, e si sente, anche perché va molto a rilento, molto, però non l'ho trovato così noioso come in tanti lo descrivono. Ormai lo sanno tutti, è uscito anche il poster ufficiale, Shuri diventa Black Panther, lei la Black Panther dell'MCU attuale, e tutta la mancanza del personaggio si sente, si sente tantissimo, si sente però anche il tributo, sia a Black Panther all'interno del film, ma anche il tributo metacinematografico, che comunque è il tributo a Chadwick Boseman, si sente tantissimo. Ci sono tante cavolate, alcune retcon tirate un po' a caso, su alcuni personaggi che abbiamo visto finora nella fase 4, in realtà un personaggio che abbiamo visto nella fase 4, Namor mi è piaciuto molto, mi è piaciuta anche Shuri, vabbè, Riri Williams, appunto, Ironheart, sono curioso di vedere la sua serie, anche perché in realtà non attendo la sua serie tanto per Ironheart o The Hood, ma per Sacha Baron Cohen, che fa Mephisto, ormai è un rumor, cioè è un rumor, ma da Deadline, o comunque qualche altra fonte come Deadline, quindi è una notizia ufficiale, però anche Ironheart ci può stare in questo film, l'ho apprezzata di più quando aveva la Mach 1, la Mach 1 e non quella tuta da Power Ranger rosso, sono curioso quindi di vedere il futuro della lore di Black Panther, soprattutto Namor, voglio vedere dove lo inseriranno e come lo inseriranno, se verrà collegato in qualche modo ai Fantastici 4, o verrà collegato in qualche modo agli Illuminati, non penso, ma almeno ai Fantastici 4 probabilmente sì, e visto che stiamo comunque parlando di un personaggio che respira sotto l'acqua, passiamo ad Avatar, la via dell'acqua. Di questo film c'è già la recensione sul canale senza spoiler, non ho voluto fare una parte spoiler, quindi magari andate a guardare quel video se vi interessa, vado sinceramente di Unpopular Opinion, ho preferito questo Avatar 2 al primo. Sarà che magari è appunto quasi una retcon del primo film, un remake del primo film, un reboot con gli stessi personaggi, se controllate, se fate più attenzione, sembrano quasi lo stesso film con un'ambientazione diversa, con dei personaggi in più, comunque siamo sempre lì. Non ho apprezzato tantissimo il ritorno di Quarlich come villain principale, anche se comunque è in uno stile differente, non so assolutamente come andranno avanti, ma magari cambierà qualcosina, almeno lo spero. La cosa che mi è piaciuta è che comunque il film finisce effettivamente come finisce il primo film, con la stessa inquadratura, è una cosa che ho apprezzato, al contrario di, come dicono in molti, non ho apprezzato assolutamente i dieci miliardi di bro detti durante il film, ogni due secondi la parola bro mi stava uscendo dalle orecchie, e per quanto riguarda la trama, secondo me è anche più studiata del primo Avatar, non che fosse un problema quella del primo Avatar per me, io sono dell'opinione che un film non è solo trama, anzi, la trama gioca un ruolo molto molto labile, molto piccolo in un complesso del film, e vabbè, questo Avatar 2 l'ho visto in 3D, non ci sono altre parole per descriverlo, magnifico, qualsiasi cosa davvero, la durata di 3 ore, 10 e 15, comunque si sente, ok, questo è vero, si sente, soprattutto nella parte iniziale, quando però poi si va sul, nella parte di Pandora, sottomarina, ecco lì, comunque si sente sempre la durata, ma almeno c'è qualcosa di diverso che, qualcosa in più, che ti fa stare con gli occhi attaccati allo schermo. L'ultimo atto è quello che ho preferito di più, tra Autoreference di James Cameron, e comunque proprio scene d'azione, realizzate in modo ottimo, hype assoluto per il resto degli Avatar, che usciranno da qui al 2028, sì, 2028, 2028 arriverà il quinto film, già è stato detto che nel terzo film si andrà, ma esplorando una nuova ambientazione di Pandora, ovvero, di Pandora, di Pandoro, abbiamo passato il Natale da poco, di Pandora, avremo i navi del, del fuoco, quelli con l'elemento fuoco, e se non sbaglio si chiamerà la tribù delle ceneri, comunque, mentre nel quinto film, già hanno parlato del quinto film, una cosa che non mi ha fatto impazzire, però, è stato detto che nel quinto film visiteremo la Terra nel 2000 e non so quando, perché, già in questo film comunque siamo nel 2170, penso, comunque, sono passati tanti anni dal nostro presente attuale, e quando arriveremo al quinto film, visto che già solo in questo Avatar 2 c'è stato un, un time skip di molti anni, quando arriveremo nel quinto film sicuramente saranno nel 3000, una cosa del genere, naturalmente sto esagerando, però, il tempo passerà. Passiamo a Matrix Resurrection, attendevo il film anche per capire che cosa avremmo visto, un sequel di Matrix, prima dell'arrivo effettivo del film mi sembrava molto improbabile, e invece per quanto mi riguarda, ci sono riusciti abbastanza. Questo quarto film si è superato sotto il punto di vista metacinematografico in confronto agli altri tre film, fa ridere che nello stesso Matrix Resurrection ci sia una critica a Matrix Resurrection, ai sequel fatti dopo tanto tempo, un po' in stile Scream, infatti anche Scream 5 ha la stessa critica, fatta un po' peggio per quanto mi riguarda, ma Lana Wachowski, se non sbaglio, ci ha lavorato solo lei in questo film, non ricordo se è lei o la sorella, comunque solo una delle sorelle Wachowski, ha lavorato in questo film e l'ha fatto nel modo migliore che potesse fare. C'è una critica non solo ai sequel fatti dopo tanto tempo, ma proprio a Warner, e non so come abbiano deciso di rilasciare un film del genere, visto che vengono autocriticati e non leggermente, ma proprio una critica pesante. Keanu Reeves in questo film è più John Wick che Neo, però potrebbe far parte anche della stessa critica, comunque il film in generale si riesce a capire solo dopo un certo punto. All'inizio sembra un po' destabilizzante, anzi è destabilizzante, ma quando si entra effettivamente nel Matrix, mentalmente, è tutto chiaro. Se è ovvio, non si guarda questo film passivamente. Ultimo film di questa lista del 2022, dei film che mi sono piaciuti di più nel 2022, Il Gatto con gli stivali, l'ultimo desiderio. È praticamente uno degli ultimi film visti l'anno scorso, sia del 2022 che non, è proprio uno degli ultimi film, e anche questo una grandissima sorpresa. Un sequel del Gatto con gli stivali, secondo me non aveva granché senso, ma il fatto che l'abbiano voluto realizzare mi incuriosiva, e dopo averlo visto posso dire che ha senso di esistere, anzi è anche molto molto meglio, sia del Gatto con gli stivali parte 1, cioè parte 1, vabbè, ultimamente ragiono in questo modo. Sia del Gatto con gli stivali, il primo film uscito, non mi ricordo, nel 2010, se non sbaglio, ma anche degli ultimi film di Shrek, il terzo e il quarto. Sicuramente molto più maturo, ci sono alcuni personaggi stessi molto, molto interessanti, per esempio il Cacciatore di Taglie, il Lupo, e tecnicamente il film mi ha anche stupito, perché sembra molto Into the Spider-Verse, lo stesso stile fumettoso, anime, andiamoci così, sembra molto anime, con pochi frame, con un'animazione molto scattosa, ma fatta apposta. Sì, è molto più economica come animazione, ma si capisce che comunque è fatta apposta. E le scene d'azione che partono, e le scene d'azione che partono fin dall'inizio, sono qualcosa di magnifico. Una grande, grande sorpresa, vi consiglio di vederlo se ancora non l'avete visto. Alla fine non serve neanche vedere il primo film, c'è qualche riferimento a quello che succede nel passato del Gatto con gli stivali, non solo il primo Gatto con gli stivali, non solo il primo film, ma anche proprio il passato. Il passato, un certo personaggio, non dico altro. E niente, del resto possiamo anche chiudere questo video qui, perché questa è stata la lista dei film che ho apprezzato di più nel 2022, fatemi sapere la vostra lista con un commento qui sotto. Vi invito come sempre a seguirmi anche su tutti gli altri social, Instagram, TikTok, Twitter e Letterboxd, dove in breve ho recensito alcuni dei film di cui ho parlato oggi. In descrizione c'è anche il link di Pampling, codice ilpensiero4, per supportare il canale e avere un paio di calze gratis. Potete trovare t-shirt, design in generale per tazze, zaini, poster, calze, chi più ne ha più ne mette, c'è davvero tantissima roba su Pampling. Ripeto appunto, con il mio codice ilpensiero4 avrete un paio di calze gratis a scelta. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao! Ciao!